Ehi bella gente, il Doc è qua presente e oggi rispondiamo alla sfida che ci ha lanciato Ale Bianconero sta sfidando il Doc, il Doc con il suo paggellone, Ale Bianconero sta sfidando per chi non lo conoscesse bravissimo ragazzo, ha uno youtube diverso dal mio, io sono un pazzo scatenato, lui analizza molto bene le partite poi c'è ragazzi, se vi va, io ve lo metto nel titolo, lo cliccate, ve lo andate a vedere perché merita il ragazzo, merita comunque, comunque, ma ha sfidato nel paggellone del Doc, al Doc, al Doc ha sfidato, come minimo non ne prendo uno ma vabbè, andiamo subito, Lecce-Napoli, Lecce-Napoli, Napoli è una bellissima vittoria, il Lecce da una brutta sconfitta dove fa due tiri in porta, ma, ma, può essere una brutta insidiosa per il Napoli, soprattutto in casa del Lecce perciò io mi metto un bel over, due e mezzo, tranquillo, tranquillo, e speriamo di non sbagliare seconda partita, Milan-Lazio, Milan-Lazio sarà per me un partitone allora, mi piaceva tantissimo l'X, ma tantissimo, ma non me la voglio rischiare perché devo battere Ale-Bianconero perciò ci mettiamo il gol in Milan-Lazio Salernitana-Inter, adesso tutti, anche Ale-Bianconero, buon Ale, l'Inter, l'Inter, come ho detto dal Monarca l'Inter perde col Sassuolo, e vi dico un'altra cosa, l'Inter non vince a Salerno 1-X della Salernitana, clamoroso, clamoroso Bologna-Empoli, la squadra della mia città, il Bolo, 1 fisso del Bologna li deve asfaltare Udinese-Genoa, 2 fisso dell'Udinese, 2 fisso dell'Udinese dell'Udinese, del Genoa, scusate perché? Perché l'Udinese per me quest'anno va in Serie B l'Udinese è veramente una squadra scandalosa ci potrebbe anche stare un X2 per coprirsi ma noi vogliamo fregarcene e mettere il 2 Atalanta-Juve allora, il gol è la cosa più ovvia che si può mettere la Juve subisce tanto l'Atalanta no, però contro le grandi sì perciò si va di gol Atalanta-Juve, gol anche se avrei voluto mettere l'X2 ma il gol è il migliore Roma-Frosinone 2 secco miglior squadra di tutte quelle che sono salite delle medio-basse col gioco più bello Frosinone è anche un derby se lo vogliamo chiamare derby Frosinone annienterà questa rometta 2 del Frosinone Sassuolo-Munza Sassuolo sta volando sulle ali dell'entusiasmo potrebbe essere anche un deficit da un certo punto di vista perché mai sottovalutare l'avversario però come si fa a non mettere l'uno al Sassuolo? non si può uno del Sassuolo Torino-Verona questa è una di quelle partite più di merda che non giocherei mai e poi mai ci può stare l'1 ci può stare l'X ci può stare il 2 ci può stare il gol ci può stare il no-goal però su una cosa sono abbastanza sicuro under e over under 3,5 non avrà una quota tantissima ma con tutte le partite ti può portare del bonus perciò Torino-Verona under 3,5 Fiorentina-Cagliari anche questa è una partita bella strana complicata allora la Fiorentina dovrebbe vincere a mani basse il Cagliari è non troppa roba anche se ha un bell'attacco e la Fiorentina anche con l'Udinese in difesa lascia dei buchi abbastanza clamorosi perciò più che l'1 più che l'1-X io qua ci metto il gol le avete adesso viste adesso compariranno tutte qua guardatevele studiatevela e vediamo vediamo tra me e il buon Ale chi vince guarda la vena Ale guarda la vena della vittoria non devo scordare un bacione dal Do commentate la vostra schedina ragazzi commentate la vostra schedina mi raccomando voglio vederle tutte perché quelle più belle me le gioco e vi taggo se vinco poi vi taggo mi raccomando commentate e iscrivetevi al canale fino alla fine forza Juventus mi raccomando un bacione dal Doc e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale